Ciao amici, sapete cos'è la honey diet o dieta del miele? Ne avete mai sentito parlare? Ultimamente si sta parlando molto di questa particolare dieta, è stata consigliata anche dal Daily Mail. Ma perché tanto interesse? La honey diet promette di essere dolce non solo di nome ma anche di fatto. Secondo il suo ideatore, il nutrizionista Mike McInnes, farebbe dimagrire senza sforzi. Vi sembra impossibile? Non proprio, in questo video vi spiegherò come e perché funziona. 1. Perché funziona? La dieta funziona grazie alle incredibili proprietà del miele. Il miele infatti per aiutare a dimagrire agisce sia sul corpo che sulla mente. Da una parte il miele migliora il metabolismo, dall'altra non fa desiderare altri alimenti dolci. La dieta del miele promette di far perdere un chilo e mezzo a settimana se non di più. E questo senza dover rinunciare al gusto dolce e senza contare le calorie. Ma in che modo? Vediamolo subito. Come funziona? Anzitutto nella dieta del miele sono consentiti solo dolci e snack fatti con il miele. Stop agli zuccheri. Sono banditi anche i carboidrati raffinati come pasta, pane e riso bianco. Meglio i carboidrati integrali che con le fibre favoriscono la mobilità intestinale e aumentano il senso di sazietà. Come alternativa i carboidrati integrali possono essere sostituiti dai legumi. 3. Cosa mangiare? Nella honey diet un quarto di ogni pasto deve essere costituito da carboidrati integrali o legumi. Un altro quarto da proteine come carni bianche, fiocchi di latte magri, albume d'uovo, tofu e pesce. L'ultima metà del pasto è a base di verdure a piacere ma non troppo condite. Equilibrato deve essere anche il consumo di frutta, massimo due piccoli spuntini al giorno. Ultima regola della honey diet mangiare del miele anche prima di andare a dormire. Infatti un cucchiaino di miele prima di andare a letto favorisce il dimagrimento nelle ore notturne. Il miele non fa schizzare alle stelle i livelli di zucchero nel sangue, facilita la digestione e migliora il sonno. È bello dimagrire con dolcezza quando è possibile no? Se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace, condividi e iscriviti al canale. Per sostenere la divulgazione del mio canale di salute naturale abbonati con un click. Mangia sano e vivi meglio!